Altra warzonata finale Vuoi farla? Se a noi c'è può essere... A me la connessione sembra stabile A me faceva cagare prima A me la connessione faceva cagare più forte Intanto iniziamola così Poi l'aggiustamo Io farei sempre due 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 Fa 5 per 2 è buono, lo vedo pure Lo vedo pure Troppo veloce, no non è vero Non è troppo veloce Si troppo, 1, ricopriamo No 2 perchè è merda Quindi Fai giocati ciccioli bro Ora che hai il budget Facciamo 4, 4, 4 Si 4, 8, 12 E 12 sull'1 Ah pensavo Per troppo bro Ma che mi hai fatto fa? Che hai fatto tu bro? Ma tu mi hai detto 12 sull'1 Si ma devi metterne 4 bro Su tutti Tu hai detto 4, 4, 4 Tu hai messo 2, 2, 2, 2 Senti se esce l'1 sbortamo Cioè sbortamo De base Ecco tanto esce l'1 Guarda Dai tutto a posto Tutto bene Tutto a posto fra Senti Bravo Così dicevo io 24 Bombettine di puntata Però lo sai che se esce Pace 5 Cosa succede Beh Se esce Pace 5 Do Io riesco a dare un bacio In bocca a Kaia Anche se sto A casa mia Esce l'1 Esce l'1 Il 2 No Il 2 No Manco il 5 Multiplicato Perchè mi fa incazzare Per chi vince Va bene Ripeti No paura No paura Tanto perdere lo stesso Che se ti esce un bel Pace 5 Per 5 Qual è il caos Sì Ciao Zitta Zitti tutti Perchè Porco Dio Se vinco 800 Un kappa Su qua La signorina Porco Dio Inizia Tutte convulsioni Simo Grazie per prego Pace 5 Va bene Non lo vedo Fletti ferma tra coin flip e pace 5 No nemmeno Ma va avanti Oh 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 Troppo veloce Manco Manco recuperiamo Che palle Simo Dai mo la prendiamo Mo la prendiamo Va bene così Va bene così Maru che c'è Dimmi Vai rigioco La mia strat La tua strategia Hai vinto 100 euro Guarda che stiamo a vincere più noi No qual è la strategia Non avere strategie Non avere paura Non avere paura Oh coin flip Non giocato Guarda se esce coin flip Per 50 Per 4 E io mafio un culo No esce un 9 Esce un 5 Un 2 Di nuovo Eh si dai Ma basta Dai si arriva a 300 Vai va bene No frate Allora Se fermiamo a 400 Come i responsabili Perciò qua Giochiamo 1-2 1-2 1-2 1 Vai vai In quarto Va bene Vai Dopo giochi 6 euro Allora Solo si bonus Per 2 Per 3 Ma che me frega Ma porco dio Guarda il pacinco Il pacinco è nostro 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 È top veloce Almeno fermate sull'1 Così recuperiamo 10 euro Bastardo E ora siamo 415 No 416 Ma famo così Guarda Ultima Ultima bona 1-2 1-2 1-2 Per solito Dai Vai tutto Vai tutto Eh troppo Troppo E gira Con sta fronte enorme Porco dio Crazy time Non esce mai Sì Non esce mai Ma non esce nient'altro Cioè Il pacinco va via E rimane un per 5 No Per 2 Oh bono Per noi Che ruschia Vorrei vedere un pacinco Sì Fai rigioca Poi mi hanno scritto In chat La tua è tutta fronte È chiaro Fai rigioca Metti un paio sul pacinco Un paio sul 2 in più Qua Sì Sull'1 scusa Non sul 2 Boh 400 Tu vuoi il pacinco Tu vuoi il pacinco Vola 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 Grazie a 95 bits Tira me una bestemmia Più che Dio Che riesce a tirar me Gesù Cristo Papà Finito Niente Uno però Guarda Annaggio alla madonna Porca Basta Ciao Simo È finito Dai Dai che ti porta fortuna Dai finiamola qua Abbiamo 400 E finiamola qua Ci vediamo Guarda Faccio No faccio Faccio questo Guarda Questo Questo è il mio massimo Rimaniamo con 400 0 No Ti cambia Bravo Sono cambiato Te credo Sono certa Quando vedi che Sai che pezza il culo Non è che Non è che è una bella sensazione Però Un pacinco Faccio la varia Guarda lo vedo pure Va bene Tutto a posto Guarda 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 il gioco d'azzardo Che non mi ottiene Il gioco d'azzardo Non mi è Non mi possiede più Minchia Abbiamo fatto una Bellissima session oggi Fra Buona Se siamo Siamo arrivati A un massimo De 500 Qualcosa Sono fermati A 400 O 540 Questo potrebbe Sicuramente Essere il content Anche di domani Potremmo Divertirci anche domani Quindi tu E'